Lascia il tuo segno. Fuggi lontano da ogni schema. Guarda più avanti degli altri. Nuova EQA 100% elettrica. Scelta distintiva. Un nuovo appuntamento con i giornali in tv. Apriamo, come sempre, con le notizie della nostra regione, con il Quotidiano del Sud, edizione Calabria. Leggiamo dalla prima pagina del Quotidiano del Sud questa vicenda che arriva da Cropani. Prende a calci l'operaio del comune perché non aveva falciato l'erba davanti casa. La vittima di Sabele è stata colpita al volto, arrestato dai carabinieri, l'aggressore. Sempre sul Quotidiano, che ritorna su una vicenda che abbiamo letto anche nei giorni precedenti, la compravendita dei crediti, parliamo di crediti sanitari, pagamenti, ritardi e contenziosi, la sanità resta in ostaggio. L'ultimo procedimento delle società di factoring riguarda Cosenza. A Catanzaro, invece, si liquidano fatture già cedute. Reggio Calabria alle prese con i tribunali. Poi il caso Ium, le donne, l'8 marzo. Il dibattito sollevato dal posto del Prof. E poi il Consiglio regionale, dal nuovo Corap all'ennesima legge omnibus. Marigian molestata e accusata di essere scafista. Visita di Laura Boldrini, caso inverosimile, mai interrogata. Vibo Valencia, falsa partenza per maestrale, il processo maestrale. Due giudici si astengono. Crotone, servizio idrico, ricorsi contro i decreti. Arrical, il Tar non concede la sospensiva a proposito dei ricorsi contro i decreti dell'Arrical, la società delle risorse idriche calabresi. Comunale di Vibo, Mangialavori e Daffinà, Cosentino e l'uomo giusto. Reggio Calabria, la Polizia insieme alle associazioni contro le truffe, comuni di Catanzaro, la Giunta licenzia il documento unico di programmazione. Poi alla mezza terme, continui furti nelle aziende agricole, scrive il quotidiano del Sud. Poi Mesoraca, il caso Campizzi a Proda in Regione. Poi Cinema, premiati e delusi della notte degli Oscar. Poi ancora Girone al Rendano, appunto l'attore Remo Girone al Teatro Rendano di Cosenza. Una sola lezione, non dimenticare. Questa era la prima pagina del quotidiano del Sud. All'interno delle pagine ancora sono commenti sulle regionali in Abruzzo. Marsilio Presidenti con il 53,5% dei voti. Risultato storico, ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia. Meloni esulta, un grande orgoglio. Tajani guarda l'obiettivo di superare il 10% alle elezioni europee, il 10% di Forza Italia. Schlein, la sconfitta del campo largo. Continueremo a batterci con ancora più determinazione. Poi cartelle fino a 120 rate per mettersi in regola, quindi pagamenti dilazionati fino a 10 anni. Il governo ha posto un nuovo tassello della riforma fiscale. Si estendono i tempi per pagare i debiti col fisco. Poi focus, giochi online, come misura antiriciclaggio, stop all'utilizzo del denaro contante. Il Vice Ministro dell'Economia si mette ordine al settore. Riforma penale, si ai correttivi, scrive il quotidiano del sud. Poi andiamo ai conflitti che purtroppo continuano a esserci in Russia-Ucraina, ma anche ovviamente quelli in Medio Oriente. Questo intanto riguarda il conflitto a proposito della Russia. La Polonia avverte, personale nato già in Ucraina. La risposta di Mosca, lo sappiamo, scrive, lo sappiamo, impossibile nasconderlo. Poi ancora l'invio prospettato come ipotesi di Macron. E ancora focus a rendersi alla Russia non porterebbe la pace. Stoltenberg ha risposto a Papa Francesco pur senza mai nominarlo. E ancora Medio Oriente, Netanyahu annuncia l'uccisione del numero 4, di Hamas, il primo ministro, Israele, verso la vittoria totale. Poi terrorismo, l'Aquila, arrestati tre palestinesi, cellula pronta a colpire, pianificavano attentate all'estero contro obiettivi civili e militari. Poi accusati anche di proselitismo e propaganda, con permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. Poi Cosenza, derby violento, tifoserie aggressive, il Viminale Monitora, divieto di vendita dei biglietti per le prossime trasferte. Poi dossieraggio, la commissione parlamentare da valutare successivamente, i capigruppo del centro-destra di Camera e Senato. Poi migranti, la storia di Marijan, molestata e accusata di essere scafista, la donna iraniana è in una REMS, in una struttura per immigrati, detenuta ovviamente. Poi un caso inverosimile, dice Laura Boldrini, perché Marijan, dice Boldrini, non è stata mai interrogata le accuse in una lingua che non conosce, dice ancora Laura Boldrini, che ha visitato la struttura di Barcellona Pozzo di Cotto, appunto la REMS, dove è detenuta Marijan, la donna iraniana, accusata di essere una scafista. Reggio Calabria ha salvato 144 migranti in mare, ma la CI4 rischia un lungo stop, le accuse della Guardia Costiera, poi ancora compravendita dei crediti, pagamenti, ritardi e processi, la sanità resta in ostaggio, numerosi procedimenti aperti dalle società di factoring, l'ultimo caso a Cosenza, i pagamenti a Catanzaro e Reggio, poi ancora sulle pagine del quotidiano, Polistena, il fortapace della sanità pubblica, la radiologia dei record con solo 4 medici, un reparto di eccellenza che resiste alle forze esterne nonostante i problemi. Poi ancora un percorso lungo e complesso, biondo della Guille, dopo l'incontro della cittadella sul futuro della sanità. Calabria dal nuovo Corap all'ennesimo omnibus, il Consiglio regionale è chiamato ora a istituire la nuova agenzia per le aree industriali, ci sono tanti punti in discussione, tra cui la riforma del Corap. Reggio Calabria verso il Disability Pride calabrese, 17 persone tra ciechi e ipovedenti lungo il sentiero dell'inglese, dal Pentadattilo a Staiti, tra Fiumare e Bergamotti e tra un popolo che parla ancora la lingua di Omero. Comunità energetica in cittadella, l'annuncio del governatore occhiuto durante un incontro a Cosenza, il progetto dell'ECR, appunto le comunità energetiche rinnovabili, presentato con il Ministro dell'Ambiente Fratin. IUM, le donne e l'8 marzo, la consigliere di fiducia dell'Ateneo invita alla modifica, Fratelli d'Italia denuncia la censura, la natura ha voluto l'uomo superiore alle donne, il posto del professore diventato un caso del professore universitario. E ancora richiamare oggi quelle parole significa aderire a una visione sessista, ci siamo sentiti offese, ma certo non da IUM, queste sono le reazioni, situazione cafchiana, perché il rettore tace, c'è questo punto interrogativo, e ancora condanne a due capi della supercosca di Cutro, Sarcone Colacino ritenuto ai vertici della cellula emiliana del clan Grande Aracri, nuovo processo d'appello in uno dei tronconi della maxinchiesta a Emilia, Vibo Valencia, processo maestrale, falsa partenza, due giudici si astengono su richiesta della DDA e di alcuni avvocati, hanno svolto funzioni di GIP durante le indagie e giudicato un imputato. Poi Malarinta, per il collegio difensivo le intercettazioni sono inutilizzabili, udienza preliminare del processo Malarinta, l'avvocato di Manna, l'ex sindaco di Rende, deposita una perizia grafologica. Questo era sempre sul quotidiano, è ancora Isola Capurzzuto, calvario giudiziario di 12 anni, assolti dopo la rinuncia alla prescrizione che avrebbe fatto restare i sigili, finalmente di sequestrata una cisterna col carburante di presunta provenienza furtiva. Acropani, non sfalci subito l'erba, ti uccido. Insensata aggressione contro un operaio disabile a fine giornata lavorativa. Addetto alle pulizie della strada, picchiato selvaggiamente con calci sul viso, un arresto, pretendeva che pulisse dinanzi casa sua, Marina di Gioiosa Ionica, corriere della droga beccati a Catania con 4 kg di cocaina, scrive sempre il quotidiano del Sud. Andiamo a Catanzaro, le strategie per il prossimo triennio, parliamo del documento unico di programmazione che è stato approvato dalla giunta comunale di Catanzaro. La mezza terme, lo leggevamo anche nella prima pagina, furti continui nelle aziende agricole, escalation inarrestabile nelle località Palazzo e Persicara fino all'area industriale ex SIR. Tante denunce senza nessun risultato. Si chiedono controlli e telecamere funzionanti, scrive il quotidiano del Sud. Sono esasperati i titolari delle aziende agricole di località Palazzo e Persicara e zone limitrofe fino ad arrivare al territorio di Curinga e aree industriali della Mezzia per i continui furti soprattutto di mezzi agricoli, quindi compresi i trattori. Furti che in pratica sono quasi all'ordine del giorno, senza che le denunce sporte hanno sortito. Gli effetti sperati, poi ancora sul quotidiano del Sud, raccolta fondi con reading e musica per chi svolge opera di soccorso a Gaza. Questa iniziativa del collettivo addunati di la Mezzia Terme, alla Mezzaluna Rossa palestinese andranno 1640 Euro, è stata raccolta questa somma per questa associazione Mezzaluna Rossa palestinese che svolge attività di soccorso nel conflitto in Medio Oriente a Gaza. giudiziaria, nuovo esame sul ricorso per ottenere uno sconto di pena, la Cassazione annulla con rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva rigettato la richiesta di Cesare Gualtieri di 46 anni, il quale aveva chiesto l'applicazione della continuazione dei reati per ottenere uno sconto di pena, la Corte d'Appello aveva rigettato la sua richiesta, ma ora la Cassazione ha annullato l'ordinanza della Corte d'Appello disponendo che ci sia un nuovo esame sull'istanza avanzata da Cesare Gualtieri. e andiamo ancora sulle pagine del quotidiano, valorizzazione del catastroniario di Zangarona, il Comune annuncia questo progetto che è stato finanziato, il Comune di Lamezia, lo studente Vittorio Liotta ai campionati nazionali di astronomia, quindi lo studente del liceo scientifico Galileo Galilei, va alla fase finale che si svolgerà ad aprile, una passione che è Vittorio Liotta, coltivato da tempo, supportato dagli indirizzi di studio. C'è stato un incontro a proposito della giornata internazionale sulla donna, i diritti e le libertà delle donne ancora oggi rimangono solo sulla carta, un confronto al polo tecnologico Carlo Rambaldi, questo era sempre sul quotidiano del Sud a Crotone, sul servizio idrico il TAR non concede la sospensiva, parliamo appunto del ricorso contro i decreti della società del servizio idrico calabrese ARRICAL. Andiamo alle pagine ora di Vibbo, altri territori, appunto sul quotidiano del Sud, parliamo sempre delle elezioni comunali, Cosentino è l'uomo giusto, Roberto Cosentino è il candidato sindaco del centrodestra, quindi Mangialavori e Daffinà, due esponenti di Forza Italia, esprimono soddisfazione per la scelta del candidato sindaco di centrodestra, il dirigente della regione Calabria Roberto Cosentino è stato ufficializzato domenica scorsa, inchiesta sui depuratori, obbligo di firma per Papalia, poi Nicola Gratteri torna a Vibbo per presentare Grifone, Vibbo Marina, la scuola presterà nel degrado sopra il logo del PD l'emblema del fallimento amministrativo del centrodestra, poi ancora a Vibbo nessuna struttura ricettiva in grado di ospitare eventi con presenze numerose e ancora sulle pagine del quotidiano del Sud a Parghelia il depuratore consortile Lagrazia è ancora autorizzato allo scarico in mare, la puntualizzazione del sindaco di Parghelia, Landro, la legge è rispettata, Filadelfia, la strada provinciale senza segnaletico, orizzontale e verticale, pericolo costante, atropea nel quaderno dell'8 marzo la storia di 15 donne coraggiose, scrive sempre il quotidiano del Sud. e andiamo ora alle pagine di società e cultura del quotidiano, Oscar, ovazione per Silian Murphy, Garrone e i migranti battuti da glazere e olocausto, premio Sira 49, edizione 12, annunciati 10 libri finalisti, unico autore calabrese in lista è Carmine Abbate. Una sola lezione, non dimenticare il monito di Remo Girone che porta in teatro in Calabria il cacciatore di nazisti. In Calabria ci sarà il concerto di Francesco De Gregori, due le date previste in Calabria, Cirella e Ciro Marina. Caracas alla Cinema Citrigno di Rende, sono presenti Marco D'Amore e Tony Servillo alla Cinema Citrigno di Rende. Ci torneremo sulle pagine del quotidiano del Sud, non appena ci avvieremo come sempre alla conclusione del nostro appuntamento con i giornali in tv, quando andremo a dare uno sguardo anche alle notizie dello sport, come sempre appunto lo sport conclude il nostro nuovo appuntamento con i giornali in tv. Andiamo ora all'edizione digitale di Gazzetta del Sud, edizione Catanzaro, Crotone, La Mezzia Terme e Vibbo. In prima pagina Gazzetta del Sud è detto La Regione, il risico dirigenti. L'aggiunto chiamato a scegliere in settori strategici i dirigenti, alcuni direttori generali al capolinea tra inchieste giudiziarie e candidature politiche. E poi in alto su Gazzetta, Catanzaro, cambio nel CDA di Carol Betania, fuori la fondazione, Crotone, prolungamento del molo foraneo stop al Ministero, poi a Vibbo, Max Processo e clan Vibonesi, si astengono due toghe del collegio che sta giudicando 188 imputati. Le indagini maestrale Cartago-Olimpo, poi la Mezzia Terme, su Gazzetta, Palazzetto dello Sport appena ultimato ma è già vecchio. La struttura visitata per l'ennesima volta dai vandali, non è stata ancora data in gestione. Comunale a Vibbo, il centro-sinistra scommette sul piano spiaggia. Poi abbiamo anche notizie come sempre di respiro nazionale e internazionale, sulle pagine di Gazzetta, di Spalla, Meloni, Sigo dell'Abruzzo, Forza Italia, il sorpasso sulla Lega, bene il PD, giù i 5 stelle. Poi a centro-pagina Kiev convoca il nunzio vaticano, fino a 120 rate per saldare i debiti con il fisco, novità in arrivo. Poi Hopminer sbanca 7 Oscar per film Hopminer, film e regia, Nolan Trionfa, Murphy e Stone, migliori attori, scrive appunto Gazzetta del Sud. Foto manipolata, le scuse di Kate, perdita di credibilità, imbarazzo a Buckingham Palace. E poi andiamo a scorrere le pagine, primo piano, su Gazzetta il centro-destra ritrova Slancio in Abruzzo, scorrendo ancora, il caso Concep si sgonfia, Assolti, Lotti, Tiziano Renzi, Bocchino e altri 5. Poi ancora fino a 120 mesi per pagare i debiti, stralcio delle cartelle dopo 5 anni. E ancora, violenze sui sanitari, nuova escalation, ma poche querele. Poi bufera sui Windsor, la foto era manipolata, Kate si scusa su X. Kiev convoca il Nunzio Vaticano, andiamo anche alle pagine ora calabresi di Gazzetta del Sud, il walzer dei direttori della regione, molti dipartimenti cambieranno guida. Poi omicidio tuttino, i due indagati non rispondono alla GIP, Libera Calabria diffonde all'unica della sua azione educativa e culturale. Poi Catanzaro, Via Libera, alla mobilità sostenibile. Andiamo anche alle pagine di Lamezia, scorriamo appunto le pagine di Gazzetta del Sud. Lamezia, il nuovo palazzetto dello sport, rischia di diventare già vecchio. Registrati raid vandalici e furti all'interno della struttura, tra le ipotesi per la gestione del nuovo palazzetto dello sport, la multiservizio Lamezia Europa, si sono verificati dei danneggiamenti che fanno preoccupare per le sorti dell'impianto appena ultimato. Poi Piazza Mazzini, da logo storico ad area parcheggio, poi in basso gli imprenditori aiutino le società direttantistiche, dice Fernando Lucifero di patto sociale. Poi su Lamezia e Lametino, di spalla acqua non potabile, la minoranza di Nocera Terinese chiede lumi. E poi Curinga, investe nei giovani per promuovere il territorio, poi artisti da tutta Italia al concorso bandistico promosso da Amacalabria. Poi in basso, su Gellato, un gemellaggio nel segno del ricordo, a Braccetto, le ampi, le associazioni dei partigiani del Reventino e di Marzabotto. Poi ancora su Gazzetta leggiamo questo colonnino in basso, Stolking, è stato condannato un 56enne di gizzeria. Crotone e Provincia, prolungamento del molo foraneo dal Ministero, nuovo stop al progetto Vibbo, il campo largo del centro-sinistra scommette su Vibbo Marina. Poi Vibbo provincia, Maxi processo ai clan del Vibonese, si astengono due giudici del collegio, come avevamo letto appunto l'operazione che avevamo prima letto, il processo scaturito dalla Maxi operazione maestrale. Sono ben 188 gli imputati in questo processo. Bene, queste erano dunque le pagine di Gazzetta del Sud. Andiamo a dare uno sguardo anche alla prima pagina di Calabria Live. La guerra del Bergamotto di Reggio Calabria su DOP da istruire è IGP approvata. La Regione ha bloccato la procedura dell'IGP per farsi accordare in tempi record la DOP. Il comitato di oltre 300 produttori è sul piede di guerra contro la decisoria della Giunta regionale di ritirare il proprio assenso all'indicazione geografica protetta appunto all'IGP già approvata dal Ministero dell'Agricoltura. Ma poi conclude questo titolo la prima pagina di Calabria Live. Andiamo ora come sempre a dare anche uno sguardo intanto alla home dell'amettino.it poi come sempre nella parte finale andremo a passare in rassegna i principali titoli dei quotidiani nazionali oggi in edicola e poi concluderemo come sempre con lo sport. Alla mezza terma all'aeroporto sequestrate oltre 2,2 milioni di euro in contanti e sanzionate 63 persone. Questo è il bilancio di finanze delle agenzie delle dogane. Processo maestrale, la DDA di Catanzaro chiede la celebrazione del processo nell'aula bunker della Mezzia. Anche qui fermo amministrativo in porto al Reggio Calabria per la nave SIAI, 4 dopo il soccorso ai migranti. Poi l'8 in Calabria, 4 vincite fortunate nelle ultime estrazioni, la più alta vincita è stata a Reggio Calabria. Andiamo come dicevamo anche ai principali titoli dei quotidiani nazionali oggi in edicola partendo dal Corriere della Sera. Il voto scuote l'opposizione, la Repubblica, Meloni divora la Lega, la stampa, dossier, Meloni stoppa Nordio, Libero, gli autoaffondati, ci avevano creduto con la foto di Schlein e Conte, il giornale Pace Fiscale è fatta, il decreto, il fatto quotidiano, Unione Europea e Stati Uniti contro il Papa, Kiev convoca il nunzio, il nunzio Vaticano. La verità, Perugia indaga sugli intrighi dei PM rivelati dalla verità. Dossier Silvio e Bufera, inchiesta Spioni e poi il messaggero, fisco, rate in 10 anni per pagare. Poi domani i grillini non votano Renzi e Calenda, il dilemma di Conte sul campo largo. Il sole 24 ore, cartelli fiscali, pagamenti in 10 anni per i contribuenti più in difficoltà. Il riformista, Meloni, Tajani, patto anti Salvini e il campo largo, già brucia. Poi l'unità, vince la destra, trionfa Tajani, avanza il PD, Conte non resiste. Assolto Romeo, condannati gli uomini di Goodcock, scrive l'unità. Il manifesto, inciampo largo, metafora sul campo largo del centro-sinistra. E poi il gazzettino, Meloni, le mosse dopo il voto, il mattino premiato il buon governo. E poi sul secolo XIX, vento d'Abruzzo sui partiti, il dubbio. Consi, abbiamo scherzato, assolti Lotti e Paparenzi dopo appena, tra virgolette appena, sette anni, l'avvenire fronte del negoziato, il resto del Carlino, europee, Meloni, pronta a scendere in campo. La notizia, ecco i motivi del flop progressista in Abruzzo, ma la strada per le alternative di governo ha fatto un passo avanti. Sull'ego fisco più tempo per pagare, anche sulle novetà del decreto per la pace fiscale. Il quotidiano del sud, l'altra voce dell'Italia, il progresso dell'Italia dipende dal centro. La discussione, Meloni, orgoglio per Marsilio, centrodestra maggioritario. E come sempre in conclusione andiamo con le pagine dello sport. L'Europa siamo noi, a proposito di Champions League. Poi sul Corriere dello Sport si sono visti, giuntoli, ha parlato con Coop Miners, giuntoli direttore generale dell'IU Enzo con il centrocampista Coop Miners dell'Atalanta. Incontro tra i manager della Juve e il principale obiettivo di mercato della Juventus. Lazio ancora K.O., Sarri in crisi. Poi su tutto sport, pazienza infinita. Al di là dei pregiudizi dei no max, il popolo Juve si interroga su Allegri, su tre anni deludenti di Allegri e sul futuro. Poi questo era appunto sulle pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Come sempre appunto con lo sport, arriviamo alla conclusione del nostro appuntamento con i giornali in TV. Abbiamo letto appunto i titoli principali dei quotidiani nazionali sportivi oggi in edicola. Andiamo anche ora allo sport dei quotidiani regionali. Quindi torniamo nella pagina digitale di Gazzetta del Sud per andare a leggere i principali titoli dello sport. Poi come sempre concluderemo con lo sport, con le pagine del quotidiano del Sud. Lo sport di Gazzetta del Sud, scorriamo le pagine, partiamo dalla serie B. Il Catanzaro sceglie le chiavi per i play-off. La seconda pagina appunto a scorrere dello sport di Gazzetta del Sud. Ecco qui il Catanzaro, dicevamo, sceglie le chiavi per i play-off. Poi Baldini furioso riporta subito al lavoro il Crotone. Poi ancora scorriamo il Cosenza e Sonera Caserta. Torna Viali. Il tecnico Lombardo, Viali di nuovo alla guida dei Silari, nove mesi dopo la finale play-out col Brescia. Quindi il club rossobui, il Cosenza ha ufficializzato il cambio in panchina dopo il derodente pari con i Cittadella. La giornata precedente la sconfitta nel derby contro il Catanzaro. Poi sempre su Gazzetta del Sud, Regina, il gap di qualità e il risultato evidente. Serie D, Gioiese in vetrina, Locri nei guai, San Biase, ipoteca sul successo finale. Poi Tennis, Sinner alle prese con Shelton, nel doppio con Soneco è out. Musetti eliminato da Runo, fuori anche Bronzetti, scrive lo sport di Gazzetta del Sud. Per concludere andiamo allo sport del quotidiano del Sud. Intanto il Lecce è Sonera da Versa. Lecce è da Versa, Brusco a Dio, Olivieri, la testata gesto grave. Vediamo che l'allenatore del Lecce ha dato una testata al giocatore del Verona e il Lecce lo ha esonerato. Cosenza si cambia, torna Viale, Catanzaro un KO che non incide, la sconfitta contro la Leggiana. Poi Crotone, non riesco a capirti, dice il tecnico Baldini del Crotone. Poi andiamo per concludere anche, sempre sullo sport del quotidiano, leggiamo Calcio a 5 maschile, Serie A2, il Lamezia Soccer brinda alla matematica permanenza in A2, Perentorio 6-1 al Piazza Armerina, poi Scherma Alessio Piraina al campionato italiano, il giovane Lametino ottiene la qualificazione, Arvalia nuoto la mezza, un terzetto dell'Arvalia ha partecipato ai campionati italiani di fondo di nuoto a Riccione. Abbiamo concluso con lo sport anche per quest'oggi con i giornali in tv da Pasquale Norettura, grazie per l'ascolto e l'attenzione. Naturalmente con i giornali in tv vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Lascia il tuo segno. Fuggi lontano da ogni schema. Guarda più avanti degli altri. Nuova EQA 100% elettrica. Scelta distintiva. Nuova EQA 100% elettrica. Nuova EQA 100% elettrica. Nuova EQA 100% elettrica. Nuova EQA 100% elettrica. Nuova EQA 100% elettrica.